Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Il grande fratello ha regalato ai concorrenti un momento di relax, ma per Beatrice Luzzi, l'attrice di vivere, è stato il preludio a una tempesta di emozioni. Dopo quattro mesi nella casa, la spa sembrava un rifugio, ma il ritorno ha portato lacrime e un profondo senso di colpa. Beatrice, già provata dalla recente perdita del padre, si è lasciata andare in un pianto liberatorio. La sua uscita dalla casa per partecipare al funerale ha aggiunto un peso emotivo. La consolazione è arrivata dalla zia Fiordaliso, che ha cercato di alleviare il senso di colpa, sottolineando che non c'era motivo per incolparsi. La situazione ha suscitato un mix di empatia e curiosità tra i fan del reality. Cosa ne pensate di questo momento intenso? Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.